Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a rispondere a una delle domande che ormai vi viene fatta più spesso e si può collegare ad altre domande molto simili che anche quelle vengo bombardato praticamente vabbè ma penso un po' tutti quelli che sono in questo mondo, è così e quindi tra poco ci spostiamo al pc e andiamo a vedere effettivamente vi dico la mia su perché non ho portato determinata piattaforma o determinate piattaforme sul canale e ve ne mostro almeno 5 o 6 che uso, continuo ad usare ma non ho mai appunto fatto un video specifico, per ognuna magari c'è una ragione diversa e adesso andiamo a vedere insieme quali sono soprattutto e perché. Detto questo però mi raccomando un bel mi piace, l'iscrizione al canale adesso ci spostiamo al pc e andiamo a vedere un po' di piattaforme. Ed eccoci qua, siamo su Hyperverse, sono entrato quando ancora si chiamava HyperFound e non l'ho mai portato sul canale semplicemente perché non mi volevo schierare, siccome io non ho mai approfondito questa questione cioè non sono mai andato ad informarmi nel particolare, non so nemmeno come si preleva cioè io ci sono da tantissimo, ho sempre fatto Reby, non so nemmeno prelevare per farvi capire me l'hanno spiegato ovviamente ma non l'ho mai fatto e per ora non mi interessa almeno che non arrivo a cifre veramente più alte allora magari mi viene un po' di interesse per questo appunto che non l'ho mai portato perché non sapevo nemmeno come spiegarlo poi a altre persone se qualcuno mi chiedeva ma come si fa a fare questa cosa, non lo so, non l'ho mai approfondito e non mi è mai più di tanto interessato farlo non volevo nemmeno appunto schierarmi perché ecco sentivo troppe voci e quando sento troppe voci su qualche piattaforma del genere evito di parlarne anche io perché giustamente c'è chi magari poi dice no ma è uno schema Ponzi, no non è uno schema Ponzi no ma funziona, non funziona quindi a voi le scelte, a voi le decisioni cioè nel senso non mi sono nemmeno mai appunto impegnato a cercare di capire se realmente lo fosse o se non lo fosse quindi non voglio, non ho mai voluto dire la mia mettiamola così e non ho mai voluto approfondire appunto il discorso del funzionamento e tutto il resto e tutto quello che c'è dietro o che non c'è dietro ce n'è un'altra che forse vi avevo già mostrata nei video del lunedì ma ve l'ho solo mostrata forse un paio di volte così e ho rideciso di non riportarla perché ad esempio anche DeMig ho sentito molto parlare periodo precedente, forse qualche mese fa se ne parlava veramente tanto ci sono entrato per provarla però sinceramente da quello che ne è emerso alla fine che si riesce a guadagnare sì ma soltanto se riesce a creare una struttura con quegli schemi binari, gamba destra, gamba sinistra e ovviamente se io presento una cosa di questa è ovvio che io riesco a guadagnare perché riesco a fare la struttura ma una persona normale che entra sotto di me che non riesce a fare rete ci guadagna, cioè questo riesce a guadagnare ti approfitti 42 centesimi e cioè si guadagna veramente poco e secondo me non ne vale nemmeno la pena almeno che ecco non andiamo a mettere cifre esorbitanti però a quel punto diventerebbe anche lì rischioso quindi per me non aveva senso portarlo che poi può essere al di là, che può essere buono, può essere sostenibile può essere ma effettivamente chi metterebbe magari 10.000 euro in questa piattaforma solo chi riesce magari a fare tanta rete e chi riesce a saper di recuperarli prima che possa cadere il peggio quindi anche questa ho deciso di non parlarne specificamente sul canale discorso diverso invece per Elevate Pass Elevate Pass l'ho portata sul canale penso, adesso non ricordo precisamente ma più di 3-4 mesi fa, 5 mesi fa forse ero stato uno dei primi in Italia addirittura a parlarne e poi me l'ero completamente dimenticata per il semplice fatto che non pagava tantissimo e poi non c'era stata all'epoca tanto interesse per questa piattaforma quindi rimaneva sempre un po' lì nel dimenticatoio io continuo ad utilizzarla e magari potremmo approfondire questo discorso perché adesso vedo che è tornata l'attenzione su questa piattaforma e molti anche mi stanno domandando di questa diciamo alla fine me ne ero solo dimenticato non avevo mai approfondito più di tanto questo discorso e magari potrebbe essere l'occasione per farlo poi invece ci sono altri tipi di piattaforme quelli che magari pagano forse troppo per essere portate e quindi magari funzionano tranquillamente anche da mesi però magari sai ti mettono un po' quella paura a dire i guadagni sono forse troppo elevati quindi se la porto potrebbe chiudere da un momento all'altro e potrebbe essere rischioso anche per chi mi segue perché anche se lo dico perché forse non ho detto nell'intro anche se io dico ragazzi non metteteci soldi almeno che veramente non li potete perdere e anzi rinnovo questa cosa mi raccomando ragazzi non mettete soldi in queste piattaforme sono veramente ad altissimo rischio cioè se li volevate mettere o perché li dovete buttare cioè nel senso non so se mi spiego li dovete effettivamente dice ho 100 dollari li voglio buttare faccio finta che non ce l'ho e magari la provate ma sinceramente con tutto il cuore non vi consiglio di provare queste piattaforme almeno quelle più ad altissimo rischio cioè adesso ve ne faccio vedere tipo 3 o 4 che io ci sono potrebbero tranquillamente funzionare come potrebbero chiudere da un momento all'altro questo è il rischio partiamo dalla prima che è Pegasus e paga per 200 giorni l'1,50% al giorno e oltre a questi guadagni che verranno messi nel nostro balance riceveremo dei dividendi se noi siamo attivi abbiamo un investimento attivo ognuno che preleva o deposita appunto dalle commissioni vengono date questi dividendi e vengono distribuiti a tutti gli investitori quindi oltre all'1,50% c'è un bel po' di più da ricevere da questo punto di vista e anche questa la sto usando da un bel po' di tempo ho fatto già vari prelevi per ora funziona però ragazzi vi ripeto queste sono già un po' più ad alto rischio c'è quest'altra che sicuro ne avete sentito parlare che è Liquidity e questa l'ho presa dal sito criptovalutati.com che adesso vi faccio vedere ce l'hanno qui in bella vista eccola qua vedete Liquidity c'è proprio una recensione su questo sito e se andiamo appunto in Liquidity ci dice che il nostro piano ci sono dei piani che danno il profitto addirittura del 3% giornaliero e io ho un piano attivo anche in questo con 50 dollari ne ho guadagnati già 18 se non erro in questa piattaforma addirittura hanno messo ecco qua investimenti in NFT ci sono anche degli NFT da poter acquistare e non lo so ragazzi anche questa la vedo comunque ad altissimo rischio però anche questa sta continuando a funzionare tranquillamente e ripeto anche come questa non ne porto perché magari i percentuali troppo alti mi avevano fatto spaventare all'inizio poi effettivamente sta continuando ad andare e sembra anche molto bene però ripeto ancora una volta è ad altissimo rischio altra piattaforma ancora Attiora questa anche non l'ho mai portata mai nominata su questo canale è effettivamente molto simile alle solite QX Benways però ecco già ce ne avevamo altre attive di questo genere non volevo portarne un'altra poi avevo notato che la tabella di marcia se la vogliamo chiamare così la roadmap diciamo molto simile forse a quella di QX tanto che Attiora ha anche lanciato la sua coin Attiora coin e magari è già a un punto della sua tabella di marcia che potrebbe essere forse non so esso pensando io questa cosa vicina alla fine perché la tabella di marcia anche di QX potrebbe essere questa fare creare l'oro la loro moneta e tutto il resto quindi magari l'oro già si sono portati avanti sono già i mesi successivi diciamo e potrebbe già quasi essere vicino alla fine ma questa ripeto è un pensiero mio potrebbe essere pure che è super sicura ma io non la porto proprio per questo e poi perché anche è molto simile a piattaforme che già abbiamo attive come QX Helix Benways e altro altro progetto in cui sono entrato ma non ve l'ho parlato è Drip Network e ragazzi lo stavo valutando seriamente però sinceramente un po' complicato e complesso e tra tutti gli altri progetti forse era difficile seguirlo io comunque ci sono da un bel po' e però ripeto non l'ho mai presentato sul canale questo molto discorso un po' simile a Hyperverse quello di Drip cioè no il progetto in sé per sé il discorso mio il discorso per il motivo più che altro per cui non ve ne ho parlato effettivamente già da subito sul canale questo era il semplice motivo altra piattaforma che uso e che in realtà non ho mai approfondito ma probabilmente su questo ci potrei fare un video adesso ci penso un po' è Zion Zion vabbè Zion credo si nomini che ci permette di creare una rendita passiva con i nostri USDT che noi mettiamo i staking ci dà pochi interessi però c'è da un bel po' la uso da un bel po' anche se come vedete c'ho pochissimo però sicuramente in questi giorni magari possiamo parlarne se siete interessati ovviamente e portarla questa ce l'ho da un bel po' forse questa è una di quelle che ho soltanto dimenticato effettivamente che però ne possiamo tranquillamente parlare sul canale anche perché è semplicissima e qui non c'è da starci dietro spiegare il progetto spiegare come fare come non fare attivare disattivare cose questo è molto semplice dove si deposita basta finita lì quindi molto semplice altra piattaforma di cui non vi ho parlato e adesso vi spiego anche il perché è FVP Trade ci sono da forse una settimana qualche non ricordo precisamente forse un po' di più e non l'ho mai portata anche se sinceramente la stavo valutando e non ho trovato pecche per ora se vogliamo dirla così però mi raccomando ragazzi lo ripeto lo so l'ho detto già dieci volte prendete queste parole con le pinze perché comunque noi stiamo dando soldi in mano ad altre persone e l'ingresso in questa piattaforma è di 500 dollari cioè sono entrato con 500 USD però questo è il problema ragazzi che l'ingresso è molto alto quindi se non la valuto bene questa piattaforma se dico magari sì ragazzi qui si potrebbe fare un investimento e domani chiude cioè ci avete già buttato 500 dollari discorso diverso magari tra non so un QX che si parte con 20 dollari e quindi cioè arrivederci se domani chiude c'è raga sono 20 dollari qua ne sono 500 non so se mi spiego quindi è per questo che magari dico di anzi se c'è qualcuno in grado di fare qualche valutazione un po' più accurata magari se è bravo a valutare se è già avuto esperienza magari perché no può farmelo sapere perché appunto io la stavo valutando se vi devo dire che non mi è piaciuta no anzi mi è piaciuta però ecco l'unica pecca per entrare ci vogliono 500 dollari e non mi sento dirvi ragazzi c'è questa piattaforma si devono mettere 500 dollari e poi domani chiude c'è una grande figura di merda una cosa su 20 dollari una cosa su 500 quindi questo è l'unico motivo per cui non ho fatto mai un video specifico su FVP Trade poi ripeto se c'è qualcuno più esperto più in grado di valutarla mi faccia sapere sicuramente e niente ragazzi per ora non me ne vengono in mente di altre piattaforme ma sicuramente ce n'ho altre attive ma sicuramente almeno altre 10 vorrei sbagliarmi ma ce ne sono veramente altre magari ce le riserviamo per un prossimo video simile fatemi sapere anzi se siete interessati a conoscerne altre anche se solitamente vabbè non tutte queste qua però abbastanza vengono listate su criptovalutati.com dove scrivono anche recensioni dove magari spiegano un po' di cosa si tratta quindi le potete trovare anche tranquillamente lì qualcuna di quelle che ho nominato e niente penso che chiarito un po' di dubbi sulla questione soprattutto Hyperverse perché ragazzi veramente tutti i giorni almeno non lo so 2-3 persone al giorno almeno mi chiedono ma Hyperverse ma Hyperverse ma Hyperverse perché non lo fai perché non ci sei come la vedi funziona non lo so cioè nel senso non mi sono mai impegnato a capire cosa c'è dietro e questo era il motivo così come motivi simili sono per queste altre piattaforme o semplicemente perché le ho dimenticate o semplicemente perché non mi piaceva schierarmi o semplicemente perché le vedevo troppo rischiose per portarle su un canale e parlarne direttamente e questi sono praticamente i motivi fondamentali e niente detto questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video